Hashtag noi amiamo gli animali Basenji Il Basenji è una razza di cani originari dell'Africa ed è davvero antichissima. Infatti sono stati trovati dei graffiti egizi che li rappresentavano di almeno 5.000 anni fa. In questo nuovo video pensato per voi da noi di Amore a Quattrozzante, scopriremo insieme le caratteristiche del Basenji. Nasce come cane da caccia ma è un ottimo cane da compagnia, fedele alla famiglia e ottimo per i bambini ed è noto per la caratteristica di non abbaiare. Tra le razze di cani il Basenji è tra le più pulite. Conosciuto infatti come il più gatto tra i cani, questa razza ama all'ordine la pulizia, non emana cattivi odori e provvede a pulirsi da solo, proprio come i gatti. Rientra tra i cani di piccola taglia e presenta una struttura fisica leggera con un'ossatura molto fine. Presenta orecchie piccole e a punta, con una coda alta che tende ad arrotolarsi in modo spirale. Nonostante l'ossatura fine, i suoi arti sono lunghi e forzuti con una muscolatura ben marcata. Il suo pelo è corto e setoso, il colore del mantello può essere rosso e bianco oppure nero e bianco. Il suo pelo non ha bisogno di tolettatura e basta spazzolarlo anche di rado in quanto perde pochissimi peli. È una razza forte e in salute, le uniche malattie alle quali è soggetto sono quelle genetiche. La sua alimentazione è facile da gestire essendo onnivoro e non avendo particolari intolleranze, mangia di meno rispetto ai cani della sua taglia. Per questo video è proprio tutto, se vuoi saperne di più sul Basenji clicca sul link dell'articolo corrispondente. Ma non solo, vuoi maggiori approfondimenti? Scoprili sempre nei link che trovi qui sotto. E voi cosa ne pensate del Basenji? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per non perdervi i video di amore a quattro zampe. Ciao ciao!